buongiorno a tutti allora concludiamo le schedine bollettine del gigione poi non so perché queste qui sia del campionato tedesco che di quello francese le caricherò assieme poi non so quale delle due arriverà per prima perché il signorino fa un po quello che vuole comunque campionato francese ma prima come sempre vi ricordo l'appuntamento col gigione con la diretta lunedì sera dalle 21 e 30 barra 22 fino a tarda sera detto questo campionato francese partiamo con la schedina e si parte subito con una partita da tripla che è strasburgo lione 1 2 lille digione 1 nizza angers 1x reims bordeaux 1x nims metz 1x montpellier amiens un po arrischiata 1 nantes tolosa un po arrischiata 1 renne saint etienne 1x e monaco paris saint germain 2 a meno che il paris san germain va in campo addormentato schedina alternativa strasburgo lione ovvero 1 e mezzo lille digione ovvero 1 e mezzo nizza angers under 3 e mezzo reims bordeaux under 2 e mezzo bell'arrischio l'under 2 e mezzo qua però mi sembra che ci potrebbe se non siete convinti fate un 3 nims metz under 3 e mezzo montpellier amiens under 3 e mezzo dan tolosa over 1 e mezzo renne saint etienne over 1 e mezzo e monaco paris saint germain via rischio un over 3 e mezzo un po arrischiato un po arrischiato se siete convinti over 2 e mezzo è meglio veniamo alle bollettine nims metz 1 montpellier amiens 1 nantes tolosa 1 renne saint etienne 1 bella arrischiata anche questa comunque con 5 euro 62 euro e 48 seconda bollettina nims metz 1x montpellier amiens 1 nantes tolosa 1 renne saint etienne 1x con 5 euro 23 euro e 45 terza bollettina doppia chance piove nims metz 1x piove montpellier amiens 1x piove nantes tolosa 1x piove e renne saint etienne 1x piove con 5 euro 37 euro e 32 quarta bollettina gol casa gol ospite stavolta paga anche benino non esageratamente però ci può stare nims metz gol ospite sì montpellier amiens gol ospite sì nantolosa gol ospite sì renne saint etienne gol ospite sì con 5 euro 26 euro e 80 quinta bollettina che vi sconsiglio perché conviene fare l'altra comunque adesso ci arriviamo nims metz gol piove il gol piove non è favorito c'è una differenza intorno allo 0 65 corno gol piove il gol piove non è favorito c'è una differenza intorno allo 0,80 nantolosa gol piove il gol piove non è favorito c'è una differenza intorno allo 0,55 0,60 rispetto al gol piove e infine ren saint etienne che io pensavo fosse una partita da over almeno questa invece anche qui c'è una differenza intorno allo 0,50 su a favore del gol piove comunque con quattro gol piove di queste quattro partite con 5 euro 245,97 infine la sesta solo un'altra impegnata comunque la sesta bollettina nims metz uno più gol piove montpellier amien uno più gol piove nanto rosa uno più gol piove ren saint etienne uno più gol piove con 2 euro 781,54 con 5 1.953,87 naturalmente essendo il no gol più under favorito ho fatto anche la schedina alternativa con i no gol più under quindi nils metz uno più no gol piove montpellier amienz uno più no gol piove nanto rosa uno più gol piove nanto rosa uno più no gol piove nanto e ren saint etienne uno più no gol piove nanto con 2 euro se ne vincono 373,24 con 5 933,10 detto questo io vi saluto vi ringrazio non ho fatto i gol perché non sono consigliati per nulla per queste partite io starei su un under poi vedete voi come gestirvele eccetera come vi dico sempre non copiateli estrapolate le partite che vi piacciono e create voi la vostra bolletta su misura le mie bollettine sono solo degli esempi sono degli input ma scegliete il singolo pronostico e estrapolatelo lo prendete ve lo mettete nelle vostre e vi create voi una schedina con 3-4 partite non mettetene di più non ne vale la pena non fate le listone quelle lunghe da 30 partite che poi c'è sempre quelle 3-4 partite che ahimè viene fuori la sorpresa per quanto uno sia stato accorto detto questo alla prossima ciao